Ci troviamo a Potenzana per imparare l'arte dei panigacci, precisamente da Gambin. Per questa antichissima ricetta serviranno solo tre ingredienti. Alla farina aggiungiamo sale e acqua a filo. Amalgamiamo per bene fino ad ottenere una miscela fluida ma non liquida. Fondamentale sarà preparare il fuoco e far scaldare i testi con la parte conca rivolta verso il basso appoggiati su una griglia. Cioè te l'avvicini alla faccia per sentire il calore? Perché non ho i guanti, se no si potrebbe fare così, capito? Mettere dell'impasto e sovrapporli l'uno sull'altro. Dopo circa 4 minuti dovrebbero essere pronti. Ci sono molte variabili, per questo è molto importante avere esperienza. E sentite quanto sono fragranti. Alcuni li abbiamo messi da parte per tuffarli in acqua. I condimenti tipici sono con sugo di funghi, pesto e in bianco col parmigiano e l'olio. E finalmente la parte che preferisco di più. Da domani imparci tutti i giorni.